Ben ritrovati a mio sito android.net, chi ci segue più assidomente avrà visto la settimana scorsa la recensione di Umie Max Mini, un terminale che ci aveva convinto a fondo per il suo rapporto qualità prezzo eccellente e che ci aveva fatto ben sperare su un salto di qualità da parte dell'azienda Umie. Sì ci speravamo ma poi è arrivato lui. Sto parlando di Umie Fair, un prodotto che è tutta apparenza, sì ok, elettroide protege itali, premi in metallo, android 5.1 però se poi il prodotto funziona male funziona male. Andiamo a vedere quali sono i difetti nella nostra recensione completa. Iniziamo subito con un veloce unboxing, vedete confezione più spartana rispetto a quelle a libretto solite di Umie, abbastanza bruttina sinceramente. Abbiamo all'interno lo smartphone ovviamente, intanto guardate quanto è poco oleofobico e quanto si sporca il vetro del display. Qui sotto invece abbiamo il cavetto USB, micro USB per la ricarica e trasferimento dati e il caricatore da parete da 5V e 1A dunque non ricarica rapida. Togliamo tutta la confezione di mezzo, parliamo dello smartphone in sé, dimensioni di 143,5 x 72, tutto in uno spessore di 8,4 mm, il peso invece è di 120 grammi. Due varianti, una bianca come questa, l'altra nera e parlando del telefono abbiamo sul lato destro postante accensione e bilanciere del volume, sul lato superiore il jet 3,5 mm, lato sinistro completamente sgombro e sul lato inferiore invece abbiamo il microfono principale di chiamata e il connettore micro USB. Tra l'altro abbiamo la cornice laterale completamente in alluminio, quindi materiali un po' più ricercati e invece il posteriore in policarbonato liscio, quasi vellutato, non bellissimo da sentire al tatto. La cover posteriore è removibile, qui sotto troviamo tra l'altro la fotocamera principale da 13 megapixel, mentre quella frontale è da 2 megapixel, intanto sentite che è un po' difficile rimuovere questa cover. Batteria da 2000 mAh un po' piccolina, supporto per due micro sim entrambe supportate al 4G LTE ma con mancanza della banda 20, abbiamo un articolo dedicato per spiegare cosa significa. È possibile espandere la memoria di sistema, cosa che è assolutamente necessaria perché i tagli, cioè il taglio in cui arriva è da 8GB di memoria interna e 1GB di RAM. Qui c'è il sensore per impronte digitali, doppio flash LED, rimontiamo tutto. Tra l'altro 8GB di memoria interna sono veramente un affronto nel 2015, non dovrebbe proprio esistere uno smartphone con 8GB di memoria interna perché non potete installarci nulla nonostante possiate metterci una micro SD. Rimontiamo tutto, andiamo ad accendere lo smartphone che ci mette un po' ad accendersi. Intanto sul fronte abbiamo la capsula audio di chiamata, sensore di luminosità e prossimità, fotocamera da 2 megapixel come vi dicevo e qui sotto non abbiamo nessun tasto, è semplicemente una cornice laterale. Guardate quanto è brutta la boot animation, intanto spero abbiate notato quanto sia male ottimizzato in fatto di cornici il display. Parlando di componentistica abbiamo un processore Mediatek 6735 che è un octa-core a 1GHz, GPU Mali T720 e in quanto a connettività Wi-Fi 302.11 e BGN, Wi-Fi tethering, Bluetooth 4.0, USB OTG e supportato. Abbiamo poi la tecnologia HotNote che è l'NFC di Mediatek e la GPS GLONASS e Beidou che insomma non funziona molto bene, il fix non ci mette un po' di tempo, non è precisissimo e insomma non è perfetta questa cosa. Andiamo a sbloccare, scusate devo sbloccare il pin della sim, stavo sbagliando. E una volta sbloccato ci viene richiesto di autentificarci cosa che possiamo fare tramite il lettore di impronte digitali. Ma qui viene fuori la prima pecca e cioè questo smartphone che si vuole proporre come materiali premium e feature interessanti come lettore di impronte digitali in realtà funziona male e dobbiamo andare almeno per adesso a sbloccarlo così. Vedete non funziona praticamente mai bene questo lettore di impronte. Andiamo ad esaminare il display, pannello 5 pollici IPS HD, dunque 194 eppi, multi-touch che supporta fino a 5 tocchi. Andiamo ad aprire il display tester, intanto vedete quanto ci mette a caricare il display tester e devo dire che i colori di questo display non sono molto buoni, sono troppo caldi. Guardandolo da vicino si vede la griglia dei pixel, adesso è difficile mostrare in telecamera ma vi assicuro che è così e per il resto comunque non mi ha convinto questo display è bruttino da vedere, è abbastanza luminoso sì in ogni occasione, magari quando la luce è molto forte va a peggiorare un po' la luminosità, non si vede perfettamente ma non è un grosso problema la luminosità. Il problema principale invece sono gli angoli di visuale che spero possiate notare in base a come lo incliniamo, qui è azzurrino, andiamo a chiudere le notifiche un attimo solo. Dicevo qui è azzurrino, girandolo di qui invece è giallino, stessa cosa di qui è azzurrino, girandolo così è giallino. Cosa molto molto fastidiosa, i pannelli fatti così male nel 2015 sempre non dovrebbero esistere ma purtroppo quando andiamo sui budget phone li troviamo, anche se questo in realtà non vorrebbe proporsi come budget phone vista la costruzione, il sensore, l'impronte eccetera eccetera. Andiamo avanti nella nostra analisi, per quanto riguarda il display possiamo anche andare a calibrare leggermente le preferenze tramite MiraVision. Una volta aperta possiamo andare qui, andiamo a vedere la temperatura del colore e già l'ho spostata leggermente verso il freddo perché quando è arrivato era veramente caldissimo come colori e possiamo andare comunque a spostarla tra praticamente giallo e praticamente blu. Rimettiamo in una via intermedia, torniamo indietro e andiamo a esaminare il comparto software. Vediamo Android 5.1 installato sul dispositivo quindi la penultima ormai versione del robottino verde e per il resto comunque questa ROM è una ROM stock Mediatek, non ci sono particolari personalizzazioni da parte di UMI quindi interfaccia stock, abbiamo il drawer, le uniche feature particolari che abbiamo nelle ROM Mediatek, che comunque non sono fatte da UMI, sono il gesture sensing, quindi possiamo andare ad esempio a spostare il telefono vicino all'orecchio quando siamo su un contatto per chiamarlo direttamente oppure muoverci tra le varie impostazioni con la mano eccetera eccetera. Abbiamo poi SmartWake che è la cosa più interessante tramite cui possiamo andare con un doppio tocco a risvegliare il dispositivo oppure attivare una dei tanti altri settaggi per fare interagire con lo smartphone a schermo spento, tra l'altro guardate qui come è male implementato, metà delle cose hanno il quadratino con il check e l'altra metà hanno uno switch, non si sa per qual motivo, però vabbè dai facciamo finta di niente. Per il resto poi abbiamo il lettore delle impronte digitali che come vi dicevo funziona male, inseriamo il pin per entrare e guardate quanto è brutta la grafica, veramente non so chi abbia potuto concepire una cosa del genere, tutto il resto del sistema è material design, poi entri qui e un pugno in un occhio questa cosa. Andiamo a vedere se adesso funziona il lettore di impronte, accendiamo il dispositivo, vedete ogni tanto funziona, comunque è lento a riconoscere l'impronta e soprattutto se io vado semplicemente ad appoggiare il dito, non la riconoscerà mai, devo andare ad appoggiare e premere il dito e molte volte non la riconosce, come avete visto, veramente è un sistema che funziona molto molto male. Torniamo indietro, parliamo anche di applicazioni preinstallate, troviamo tutte le classiche applicazioni preinstallate nei MediaTek, tra l'altro guardate 4,76 GB disponibili all'utente, pochissimi veramente non si riesce a convivere con così poca memoria e le applicazioni vedete sono le classiche con la grafica obsoleta di Jelly Bean, insomma lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso su questa cosa. Un lato positivo però è che abbiamo la radio FM, se riesco a trovare l'applicazione corrispondente, insomma non mi ricordo adesso come si chiamava l'applicazione, comunque fidatevi c'è la radio FM se collegate le cuffiette. Andiamo avanti la nostra analisi, parliamo adesso di prestazioni, vi ricordo che tutti i benchmark che abbiamo fatto sul dispositivo sono disponibili sul nostro sito, andiamo a chiudere tutto e andiamo su tutto Android per vedere come si comporta nella navigazione. Ci vuole un attimino a caricare, questo penso sia un problema più della linea che dello smartphone, anche se su tutto Android che è molto leggero tutto questo tempo per caricare mi sembra strano anche per la mia linea. Vediamo che l'esperienza di navigazione va assolutamente a scatti, è inaccettabile su un sito leggero che ci siano tutti questi scatti, per il resto non ci sono grossi problemi di rirendering ma se ci spostiamo su un sito più pesante, ad esempio andiamo, tra l'altro anche la tastiera non è che funzioni benissimo, ogni tanto qualche tocco lo perde, quindi insomma l'intero pacchetto state capendo che non è esattamente quello che si definirebbe uno smartphone che funziona bene. E eccoci purtroppo ci ha messo veramente tanto a caricarsi, comunque vedete scatta, c'è tantissimo rirendering, non si riesce ad utilizzare per bene, veramente impazzisce su siti pesanti questo Umifair. Spostiamoci dunque sul comparto fotografico e qui ci sono da dire delle belle, prendiamo il nostro Goku, apriamo la fotocamera e a parte che l'interfaccia della fotocamera è quella stock di MediaTek, ormai siamo abituati su questi smartphone cinesi diciamo non di fascia alta a trovare questa interfaccia, quindi vedete le classiche cose, abbiamo qui sotto le impostazioni per scegliere varie modalità di utilizzo che come al solito sono ricche come impostazioni ma in realtà funzionano male. La cosa brutta diciamo è che la messa a fuoco è molto molto lenta, la velocità di scatto pure, guardate quante volte ho premuto e adesso sta impazzendo purtroppo non funziona bene questa interfaccia della fotocamera. Le foto comunque durante il giorno, la notte, in qualsiasi momento sono sempre pessime, la gestione della luce è completamente sballata, basta che ci sia un filo di luce solare e la foto diventa praticamente come una patina bianca stampata sopra, di notte non ne parliamo praticamente non ho mai scattato di notte perché mi passava la voglia dopo vedere la qualità del primo scatto, veramente la fotocamera di questo Umifair è totalmente da buttare cosa che non dico praticamente mai con nessuno smartphone. Passiamo dunque alla prova di gioco vediamo se qui si redime, spoiler alert no e intanto parliamo che intanto che si apre il Real Racing parliamo un attimo di ricezione che almeno questa è abbastanza buona, la qualità di chiamata non è perfetta, è un po' metallico il nostro microfono dunque l'altra persona ci sentirà non in modo perfettamente chiaro ma per il resto la capsula audio funziona abbastanza bene e diciamo riesce a garantire un volume adeguato quando non c'è troppo rumore ambientale per quanto riguarda invece la batteria anche qui ci troviamo di fronte a un comparto completamente scadente ed infatti sono riuscito ad arrivare con praticamente solo un'ora e mezza o due ore di schermo acceso a metà pomeriggio usando questo smartphone praticamente mai perché veramente è una tortura da usare a mio parere più che un bello smartphone tanto riguardate quanto sono brutte queste cornici ottimizzate malissimo ma veramente l'ho usato pochissimo durante la giornata e mentre ero in treno per tornare a casa dall'università sempre mi si è spento regolarmente in treno con due ore di display attivo dunque veramente una cosa inaccettabile questo umifer in quanto a batteria aspettiamo che si carichi come vedete purtroppo quando parliamo di questi smartphone un po come dire un po non molto buoni ci troviamo di fronte a lunghi caricamenti andiamo ad aprire la una gara adesso è impazzito come al solito vabbè purtroppo ci sono questi lunghi caricamenti quando parliamo di smartphone di fascia molto bassa e bisogna conviverci per insomma per per fare queste recensioni dovrete aspettare un po di più un po di tempo che non è colpa mia se lo perdiamo ma è colpa dello smartphone andiamo ad avviare la gara finalmente vi anticipo già che in quanto intanto alziamo anche un po il volume se non va in crash per alzare il volume e vi avviso già fin da subito che comunque il frame rate è abbastanza basso il gioco è un po scattoso sulle gare più complicate insomma l'esperienza utente nel giocare non è propriamente molto buona andiamo ad aspettare che si carichi anche qui vedete il caricamento abbastanza lungo della gara di solito con anche con smartphone non di fascia così alta diciamo riesce a caricarsi più velocemente ok eccoci purtroppo ho dovuto tagliare la parte di caricamento perché mentre si era appena caricato e stavo per partire con la gara mi è arrivato un messaggio su messenger e la finestra flottante ha praticamente mandato in crash tutto c'erano rallentamenti visibili in ogni parte del sistema insomma per non farvi perdere due minuti nel farvi vedere che riavviavo la gara ho tagliato scusatemi non sono solito fare queste cose ma con questo umifer se non vogliamo una recensione di 25 minuti ho dovuto farlo purtroppo e 25 minuti di questo gioco purtroppo cioè di questo telefono purtroppo sarebbe veramente una sofferenza sia per me che per voi comunque avete visto penso stiate vedendo che la giocabilità non è per nulla buona guardate quanto va a scatti quando ci avviciniamo alle curve e in generale veramente vi sconsiglio di giocare su questo umifer anche perché se giocate per 10 minuti se ci riuscite va a scaldare abbastanza sulla parte qui intorno al lettore di impronte digitali che funziona male vi ricordo ancora una volta mi spiace parlare così male ma veramente quando si trova male con uno smartphone è giusto dirvelo e non ammorbidire i termini perché insomma poi siete voi che andate a comprare o meno i terminali è giusto che sappiate se una cosa totalmente non va bene finiamo con la classica analisi del comparto multimediale andiamo ad aprire qualche video vediamo con cosa aprirlo apriamo la galleria ecco qui andiamo a esaminare i video di prova vi dico che li legge tutti senza problemi l'unica cosa che non riesce adesso la galleria non legge i video ovviamente ah no sì eccoli qui scusate sono un po un po folgorato questa mattina che prima di andare all'università sto registrando vedete legge tutto in quanto a video ma non legge l'audio del dei file mkv se decide di aprirli ok eccoci qui solo una volta con il video player forza e vedete che nonostante ho l'audio al massimo se vado a spostarmi da una parte all'altra l'unica pv tra l'altro lo spostamento che richiede parecchio tempo il video si è fluido ma non si riesce a leggere l'audio torniamo indietro basta con i video e l'ultima cosa da esaminare è il comparto audio se ce la facciamo ovviamente apriamo il lettore musicale apriamo una canzone a caso va bene questa che è già aperta e facciamola partire ok spero abbiate sentito il volume non è altissimo ma la cosa peggiore intanto vi faccio rivedere di nuovo quanto virano i colori girando lo smartphone la cosa peggiore è che sia gli alti che i bassi sono distorti insomma non sono ben riprodotti e grattano un po' sullo speaker che comunque non ha un buon volume dunque abbiamo esaminato tutti gli aspetti di questo purtroppo infelice umifair e vi lascio alle conclusioni finali per farvi una risata magari ed eccoci arrivati anche oggi alla fine di questa recensione andiamo a tirare le somme su questo umifair nei pro non ci metterei assolutamente nulla mentre nei contro c'è tutto il resto display scadente fotocamera che non riesce a scattare buone fotografie in nessuna condizione di illuminazione in generale performance che non mi hanno convinto è un'autonomia troppo troppo risicata andiamo dunque a parlare di prezzo lo potete trovare a 130 euro su myifox che ringraziamo per averci mandato questo sample di prova ma nonostante il prezzo sia molto basso potete sicuramente trovare di meglio in questa fascia di prezzo e dunque vi rimando alla nostra guida dei migliori smartphone cinesi android sul mercato dove potete trovare sicuramente delle alternative più valide link in descrizione o nelle schede di youtube qui in alto grazie mille per averci seguito se il video vi è piaciuto lasciateci un bel mi piace che ci fa veramente tanto piacere iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto lasciate un commento per qualsiasi dubbio domanda consiglio eccetera eccetera e oltre a questo seguiteci sul blog sui social e un po ovunque vogliate seguirci grazie mille per il vostro supporto ragazzi ci vediamo al prossimo video un saluto da Alberto per tuttandroid.net